Il tipo di musica è basandomi su quel tipo di musica, che è il black, il soul, un po' il gospel, quello che viene un po' la chiesa, un po' che vengono dall'anima, no? Per me il gospel è molto intimo, quindi lo sento ancora più, anche se non ce capisco quando canto, però il sound mi entra nell'anima, quindi mi piace tanto. E io ho pensato quest'estate di farmi un paio di mesi in America, proprio per prendere qualche beneficio da questi sacrifici, per studiare qualcosa che mi può far stare bene, studiare una lingua, ovviamente, lavorando e studiando ciò che a me rende più felice, cioè il gospel. Quindi, grazie, qualcuno mi dilerà qualche scatto. Tutto bene? E' arrabbiata? No? Felice, no? Dottano qualche cosa che non fa? Sì, vengo a casa, sì. Però questo sicuramente non mi terrà fuori dalle vostre vite, perché ho in mente tante cose, tante idee che spero vanno in porto, insomma, poi su tante cose non ho la prima scelta, insomma, purtroppo un po' in questo lavoro c'è una gerarchia che bisogna rispettare, tipo io, sopra di me una casa discografica che consiglia, però speriamo veramente, io lo spero vivamente, anziché tutte le cose che abbiamo in mente io e le persone che mi seguono, il mio staff, spero veramente che si compino, perché sono delle cose bellissime che ci possono far stare sempre insieme per quanto noi vogliamo, insomma. tipo non si può dire, scusa. Però, non si può dire, non si può dire. Vabbè, ci dobbiamo insomma adattare, no? Sto a Lecce parlo dialetto, se sto a Roma parlo il romano, eh? Sono la gente, ma fatica. Io tutti io uso con il dialetto, quanto vuoi, dalla mattina alla sera. C'è qualcun altro che vuole sapere qualcosa? Che cosa? Il video, quando ci rai. Il video di te aspetto, mazzo!